non mi partiva più il tablet oggi buonasera amiche e buonasera amici adesso vi arriva un bel vocalone dove parlo di filati dove parlo un po' di fatimia è come se ma parlo molto di filati vi do due dritte vi indico un sito e poi vabbè sapete che c'è a te per tenervi compagnia quindi quella è una chiacchiera per chi vuole compagnia vuol sapere qualcosa riguardo delle offerte riguarda dei filati arriva, intanto con questo invece vi do un saluto con questo piccolo vocale per chi vuole solo così un rumore per un qualche secondo e poi è anche troppo il tempo impiegato e sono contenta avrò da fare dei campioni ma non adesso perché devo andare a finire il golf di Camilla quanti ne ho fatti quest'anno poi voglio contarli io per me non mi sono più fatta niente ho tutti dei filati per farmi delle cose ma voi come siete messi a casa come i calzolai che vanno in giro con le scarpe rotte io uguale ho bisogno di golf mi devo andare a comprare delle maglie perché tanto mi fia non mi fa far niente perché sono anche io un po' lenta perché mi disperdo nell'aere non so voi sono proprio così cosa hai fatto oggi? ho fatto due lavatrici a mano perché ancora l'omino non è venuto ad aggiustare la mia a vedere anche di che cosa si tratta se ci saranno a comprare dei pezzi io sono ripassata ma insomma ma signora siamo gli unici qua che facciamo assistenza da Viterbo non vengono dobbiamo arrivare a Bagno Reggio di qui di lì di là mio figlio mi ha detto non prendere più quanti appuntamenti io cosa devo fare con la mia lavatrice? ho 4 anni 5 anni quanto c'ho questa lavatrice? poi quanto volete che la uso? sono da sola vabbè la uso ma mica 8 lavatrici al giorno ne farò due a settimana perché poi tutti i pezzettini mi lavo a mano santa pace e quindi oggi c'è una statormenta cosa ho fatto? ho lavato a mano ho buttato in ammollo fum fum struscia perché mi piace fare il bucato è strusciato ho le mani cotte un po' dalla stufa e molto da lavare a mano e poi sono andata fuori con le mani bagnate con il vento con la Siberia che si spagano le mani con le mani tutte rovinate e vabbè pazienza e meno male ho tolto tutti i panni presto adesso l'ho messo in giro a sbrinarsi è quasi buio vado ad accendere le luminarie l'albero è acceso perché anche se quando inizia a chiacchierare con voi non è ancora buio io lo accendo perché mi fa Natale chiacchierare con voi belli 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 e sono così oggi sono gazzata è arrivata una cosa ve ne parlo nell'altro vocale di cose adesso così questo è solo un saluto col fiasco e con l'imbuto Lorenza come sei spiritosa no vado a mettermi sulla minestra di verdura cosa hai la verzariccia le carote il sedano una zucchina mi piace sprecare la zucchina che costa oro no costa come quest'estate guardate qui la zucchina non si capisce perché costa sempre un botto quando si va nei negozi grandi ma non sono riuscita ad andare dalla mia verduraia perché dovevo andare dalla parte opposta e non sono riuscita ad andare al mercato l'altro giorno non ce ne ho voglia o pioveva non mi ricordo comunque non ci sono andata quindi verzariccia verzariccia sedano carote che ho detto un torsolo un torsolo di cavolo cappuccio che ci metto ci metto una patata ma poi ci metto i fagioli no va bene ci metto una patata ci metto una patata che fa si squaglia un po' poi cosa ci metti che ne so cosa ci metto basta una cipolla ecco mi scoccia a impiegare le cipolle per le minestre cosa vuoi cucciare con niente non so con quello che costano le cipolle me le lascio per qualcos'altro quanto è buono il profumo della cipolla il profumo dell'aglio ci metto anche uno spicchio d'aglio a me ci piace l'aglio nella minestra io voi non lo so ma ci metto anche un peperoncino ma ci metto anche un peperoncino che ce l'ho sul balconcino va bene andiamo a preparare quelle cose la ciccia ce l'ho già cotta ma devo impacchettarne dell'altra devo sistemarla nel freezer uffo che noia fare queste cose qua mi annoiano dovrei lavare delle cose che stanno lì nell'acquaio che mi guardano quei imploranti non Lorenza ma sei proprio una pigra lo so sono vecchia stavo vecchiando pensa quando facevo 1800 cose che lavoravo 800 ore al giorno adesso che potrei produrre con più sono lenta come la fame ma perché si dice lenta come la fame qualcuno me lo sa dire non lo voglio cercare su internet bene vi saluto oggi vorrei leggermi anche qualche pagine stasera voglio leggere un po' il mio libretto blu che a gennaio lo devo dare non manca mica tanto a gennaio sono un po' indietro con la lettura non so come mai perché lavoro perché faccio tante cose perché mi impiegrisco qua e là guardo dalle finestre mi perdo nell'aere chiacchiero fuori casa vado a prendere la legna porto fuori i minù e poi devo riportare fuori i minù e poi c'è ancora portare fuori i minù poi prendi il gatto porta sul gatto a mangiare che non ci vuole dare con le sue zampe poi scende che sembra un bisonte ma mia e cammina che te l'ho messo no lui non cammina lo devo prendere e fargli fare la scala poi boom si tuffa dalle mie braccia mi lascia due unghiate e va e si tuffa sulle ciotole poi non vuole solo i crocchi vuole anche l'umido quindi scende riprende anche l'umido gli date l'umido vuole i crocchi quindi gli dici tacci tua però se non te lo dà voi mi facevi fare le scale è così noi si chiacchierano con gli animali non so voi stamattina ho socializzato con un bel cagnolone l'altro giorno un corpo mi è preso mi sono trovata un molossoide naso naso pumaro da tiger ferma lì in palata non so se mi mangia e invece il strunzo mi ha dato due se le cazzate al naso i signori non se ne erano manca accorti poteva essere c'era un aguinzaglio e bella meno male la menù in braccio che io c'ho sempre una paura che quella ciocamorsi a destra e a manca oh signora ci scudo un po' intanto mi ha già lavato la faccia sto cane va bene amore di zia quindi qua bellissima io non ho molta simpatia per i molossoidi però quello era simpatico va bene e io che ho avuto gli alaskan malamut come era bello il mio balto che disgraziata la smilla che belli tutti i cani non mi ricordo i nomi che avevamo dato i nomi a tutti l'ultima che mi ricordo che è rimasta con noi nove mesi Baltina mi sa Baltina è stata con noi non la volevamo più dare poi me l'hanno era bella come il papà bianca e nera poi ve la faccio rivedere la foto di Balto che abbiamo tutti i cani adottati Balto e smilla era solo Balto era disperato era depresso era malato di lesmania curata male abbandonato perché si era malato ma era un cane che vi giuro mi fermavano per strada era uno spettacolo ma lo tenevo bene era bello bello da abbracciare delicato lui bello bello quanto bene come ci mancano gli animali quando sono stati con noi e poi sento tanti io ho avuto un cane solo e mai più perché ho sofferto tanto lo so gli animali insegnano proprio questo o li ami o non li ami o non li prendi e quando li prendi sai che rispetto agli umani passavo accidenti che ci capitano tutte le famiglie purtroppo che uno non si aspetta che un affetto venga a mancare tempo poco troppo poco troppo poco ma gli animali è la vita degli animali da casa degli animali come si dice la compagnia non vedi in mente come si dice però sapete che c'è la parola ecco loro quando mi guardano mi dico ma è vecchia io tirerei una scarpa in testa vecchia tua sorella o tu zia o tu nonna la Minou ha un ah ma è vecchia oh ancora eh no queste razze qui me lo auguro insomma che poi Minou ha avuto di tutto e di più povera ciccia ma che male gliele vai pure a tirare però sappiamo che ci sono delle razze canine che veramente alcune non superano i 10 anni alcuni 12 sapete il mio cano lupo ho 16 anni che è tantissimo per un cane lupo anche 18 dico mamma mia che bello dico che bello che poi purtroppo un po' di anni li passano a ciaccatelli che richiedono cure che iniziano a non camminare bene che iniziano a non vedere insomma poi i cani lupo hanno spesso problemi agli altri problemi di artrosi ah lo so è una sofferenza io se penso a tutti i gatti che due gatti che mi sono spariti un gatto che mi è morto malamente il criceto il coniglio che mi è morto tra le mani la coniglia la teresa io sono rimorta con lei in quell'istante la spavento e poi il dolore perché io con teresa ci chiacchieravo tanto la merla gilberta che quando siamo venute via dai castelli ma non la vedevo già da un anno magari era ancora lì chissà lei che veniva a farsi a salutarmi a levare un ocellino in plume in plume badate bene farlo campare e poi renderlo libero insegnargli a volare gli ho dedicato talmente io penso che quello sia una delle cose più belle che mi siano capitate nella vita mia figlia ovviamente ma come esperienza uno dice oh vai a cantare a San Rì oh vai oh sei stato al Polo Nord io ho allevato una merla che mi ha riconosciuto che si è fatta fare i grattini che mi ha fatto vedere i suoi piccoli che è andata nel bosco e che se le sa putata cavare da sola per anni e io sono felice insomma questa è una delle cose più belle inaspettate che potevano capitarmi ho sotterrato altri merli altre merle prese da Oreste che non ce l'hanno fatta no da Oreste da da a parte che anche da Oreste ma anche da Roscetto Oreste è tremendone è un cacciatore incredibile è il mio gatto anche se è un castrato lui è proprio cacciatore 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 e mi è toccato qualcuno mi è campata qualche giorno mi dice ma come fai a campare con quella ferita l'adrenalina e poi sono tutte delle tombe di uselin nel bosco a Rocca di Papa lungo le ipopie che guai ecco gatti che ci sono spariti come si fa allora rinuncia ad amare perché poi vengono a mancare gli affetti è una cosa sciocca nostra umana no lo so che soffriremo ma io non riesco però è così bello avere degli animali insieme a noi sono delle responsabilità tante cose non le posso fare perché ci sono loro tanti luoghi non ci posso andare sono un vincolo sono delle spese ma è amore ecco perché allora non ti adotti ma ti pensa infatti te che io vengo già dalla famiglia numerosa c'è un sacco di ecco ho già dato ho fatto già tanti sacrifici che ancora ne sto facendo guarda ecco però gli animali è qualcosa che aiutano a migliorare ci migliorano migliorano i figlioli li rendono più sensibili dipende se vogliamo noi renderli sensibili renderli attenti e gli animali ci migliorano va bene vi saluto buona serata adesso dopo subito dopo carico quello lungo dove parlo di filati dove parlo di cose nuove grazie a tutti Grazie.